L'immagine simbolo di quest'ultima ondata di maltempo che ha duramente colpito la Calabria è il crollo di un tratto della tangenziale che collega al centro di Girifalco con la provinciale che conduce ad Amaroni a Monte Covello. Il manto stradale crollato squarciandosi letteralmente, il forte smottamento ha coinvolto un'auto trascinata nella scarpata, fortunatamente senza provocare feriti. Molti disagi anche nel Soveratese per la pioggia che non ha dato tregua per tutta la giornata di ieri. A Montauro i vigili del fuoco di località Caldarello hanno tratto in salvo una donna rimasta bloccata all'interno della propria auto nel sottopasso di Cala Lunga, un intervento che ha impedito l'annegamento della signora. A Satriano Marina e località Russo Mano sono caduti tre pali della pubblica illuminazione senza causare danni a persone. Scuole chiuse a Soverato, Davoli, Monte Paone e Satriano. Il maltempo ha creato disagi anche nel comprensorio di Squillace. Su segnalazione dei carabinieri è stata disposta la chiusura al traffico del viadotto Alessi nella zona marina, ai confini con Copanello per lo straripamento del torrente omonimo. Strade allagate invase dal fango nei centri del Basso Ionio. I disagi maggiori si sono registrati a Guardavalle dove alcune frane hanno interrotto l'arteria che collega il centro storico. In Marina è andata in tilt la rete fognaria con disagi che hanno impegnato tecnici e operai comunali per tutta la giornata. Interi tratti allagati lungo la strada statale 106 tra Isca, Sant'Andrea Ionio e San Sostene come di solito accade dopo qualche ora di pioggia. Precipitazioni intense, torrenti ingrossati e smottamenti anche a Catanzaro e nel suo Interland. Nel quartiere Cavita uno smottamento ha isolato di fatto circa dieci famiglie. Appena scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai della provincia che hanno predisposto la chiusura dell'arteria in attesa che nella giornata odierna si possa procedere alla messa in sicurezza del costone per permettere così alle persone che al momento della frana si trovavano fuori di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Anche a Catanzaro oggi scuole chiuse, decisione presa nella tarda serata di ieri dal primo cittadino Sergio Abramo dopo la rottura dell'acquedotto di Santa Domenica. Oggi potrebbero dunque registrarsi dei disagi nelle zone servite dall'acquedotto, Gagliano, centro storico e parte del quartiere Lido. Gravi criticità si sono manifestate nella presila catanzarese interessata in maniera particolare la strada provinciale 25 con un coinvolgimento della struttura dell'acquedotto di Santa Domenica, come dicevamo, che serve la città di Catanzaro. Una parte della careggiata della SP25 è stata interessata da frane smottamenti. L'amministrazione provinciale di Catanzaro sta assicurando tempestivamente interventi sul sistema viario tra Simeri Cricchi, Soveria e Sellia. Sotto costante monitoraggio anche la zona tra Gimigliano, Tiriolo, Marcellinare e Settingiano, che risulta essere tra le aree più instabili. Situazione critica anche per la zona del Chiaravallese, tra i comuni di Squillace, Staletti e Gasperina. Il presidente della provincia Enzo Bruno ha proceduto ad informare della situazione il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, e il presidente della regione Mario Oliverio, al quale ha anticipato che avanzerà in maniera urgente la richiesta dello stato di calamità al governo nazionale. Dopo l'incontro di questa mattina il prefetto Latella ha provveduto a convocare con urgenza una riunione che si terrà questo pomeriggio sulla situazione della strada provinciale 25 dell'acquedotto di Santa Domenica, a cui parteciperanno il presidente della provincia Enzo Bruno, il sindaco della città Sergio Abramo, il dirigente della protezione civile Carlo Tanzi e l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno.